Non ho mai detto che l'antiquarium di San Calogero a Sciacca sarebbe stato chiuso, ma che ha bisogno di intervenire per una sua migliore organizzazione e fruizione. Lo ha detto questa mattina da Grigento, intervenendo all'inaugurazione della mostra sugli sviluppi urbanistici e architettonici della città dei Templi durante l'architettura razionalista del ventennio, il presidente della regione Nello Musumeci. Ho visto, ha aggiunto Musumeci, che in quel sito c'è una teca al centro di una sala, alcune fotografie fisse e ben sette dipendenti regionali. Ho così dato disposizione al presidente del parco archeologico, dal cui direttore l'antiquarium dipende, di effettuare la digitalizzazione delle foto a disposizione di una migliore razionalizzazione delle risorse umane. Dicharazioni quelle del presidente Musumeci, che sembrano dunque chiudere il caso sul destino dell'antiquarium, vicende che ha catalizzato l'attenzione generale nei giorni scorsi a Sciacca, comprese di posizione, polemiche e raccolte di firme.